Grazie a tutti. Un vero buco nero. Oppure sei un postdemocristiano? Beh, la buongiorno non si vede dal mattino. Sai perché? Non è in Parlamento, è in Tribunale perché è un ricco avvocato e adesso vuole mettere le mani sul Lazio, l'Otito, in campana. Infine, sei un postcomunista? Beh, c'è Zingaretti, quello che ha fatto fuori noi dal Consiglio regionale perché rubano tutti, tranne i radicali. Se non ci fosse il fratello non lo salverebbe neanche la Regione. Come ti ho detto, sono tutti uguali. Alla Presidenza vota per chi ti pare, ma per un Lazio a colori vota Alessandro Massari. Liste amnistia, giustizia e libertà per tutti.